Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Dolore e lacrime nel quartiere Soccavo di Napoli per la scomparsa del giovane Andrea, pizzaiolo della storica pizzeria Porzio, il quale si è tolto la vita. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, ma sicuramente quello più toccante, è stato scritto da Enrico Porzio, noto pizzaiolo napoletano, che oggi è distrutto dal dolore, e su Facebook scrive A settembre feci un post in cui raccontavo chi era Andrea, il ragazzo che vedete spesso nei miei video, quasi me lo sentissi. Il post diceva, è un bravo pizzaiolo, un ragazzo gioioso, simpatico e solare, ma come tutti ha dei punti deboli, i suoi però vanno controllati perché spesso ha rischiato la vita. Le lacrime che sto versando da tre ore non servono e non serviranno neanche le future. Avevamo ancora tante cose da fare insieme. Mi avevamo parlato quattro ore prima, ma non sono stato bravo a comprendere il suo disagio, la sua tristezza, il suo attuale stato depressivo. Il suo folle gesto lo ha portato via, fra il grande dolore della famiglia, degli amici, di tutto lo staff del gruppo Porzio e sono sicuro anche vostro. Perdere una persona cara è sempre qualcosa di doloroso, ma perderla così resterà per sempre un dramma incancellabile. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.